Come ogni anno, è il momento dei nostri MoviePlayer.it Awards, i premi assegnati attraverso le preferenze dei nostri lettori. In questo breve video riassuntivo ci occuperemo dei premi dedicati alle serie TV. Per quanto riguarda il piccolo schermo, non può esservi dubbio su quale serie TV ha spopolato. È Stranger Things dei fratelli da affer a farla da padrone. Accanto a questo vi sono tante altre produzioni Netflix che per un premio o per l'altro portano a casa vari riconoscimenti. Pochi dubbi sul miglior telefilm italiano. Per scoprire tutti i premi, godetevi la lista delle serie più votate qui su MoviePlayer.it Grazie a tutti per aver guardato il video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.